È cambiato il metodo di calcolo dei requisiti degli inquilini. Prima c'è il reddito, oggi c'è l'ISEE, questo inevitabilmente ha prodotto delle differenze nei canoni e anche nella valutazione del diritto da parte di chi è attualmente all'interno delle nostre case. Dopo le polemiche delle ultime settimane, il presidente di ATER Venezia ha voluto far chiarezza su alcuni punti, in primis sottolineando il cambiamento del metodo di valutazione e poi snocciolando numeri importanti. Gli inquilini assegnatari dei 7.565 all'oggi ERP che hanno avuto un aumento del canone d'affitto sono 6.170, mentre quelli che hanno avuto una diminuzione del canone sono 1.395. Ad oggi, fa sapere ATER, sono 1.282 le persone che hanno un'ISEE superiore ai limiti imposti dalla legge regionale e 643 assegnatari hanno un'ISEE superiore ai 26.000 euro. In totale ci sono 1.400 posizioni da verificare tra assegnatari che non hanno compilato correttamente la modulistica o presentato anomalie da verificare. Una parte di coloro i quali ci aveva dato documentazione incompleta o addirittura che aveva eluso la consegna del modulo ISEE, una parte l'abbiamo recuperata in queste settimane, però rimangono circa 400 nostri inquilini che al momento non ci hanno dato la documentazione necessaria. Ulteriori verifiche però hanno portato a scoprire dell'altro. Purtroppo abbiamo potuto constatare che ci sono alcuni nostri inquilini che hanno molte decine di migliaia di euro in banca e in alcuni casi anche svariate centinaia di euro in banca. Allora in questi casi è chiaro che da parte nostra c'è la richiesta nei confronti di queste persone che lasciano immediatamente questi alloggi perché ci sono migliaia di famiglie che non hanno in questo momento titolo per poter entrare negli edifici pubblici e negli alloggi pubblici ma che ne avrebbero diritto e quindi quelle case devono esserci restituite immediatamente. Il Presidente si rivolge soprattutto ai tanti anziani preoccupati per le loro sorti. Devono stare tranquilli perché stiamo studiando insieme alla Regione, insieme al Comune di Venezia, nel caso del Comune di Venezia insieme alla Regione per quanto riguarda l'intera area della città metropolitana eventuali correttivi che possano permettere alle persone che hanno diritto di continuare a pagare un canone basso di non vedersi aumentato in modo indiscriminato il canone. Quindi mi sento di rasserenare tutti e da parte nostra diamo la massima disponibilità al dialogo.